Allora, posso iniziare? Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, Lamiranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Teormino, Tita Ferrante, Torraco, Tremolada, Pavassori, tutti. Quindi risultano 25 consiglieri presenti, la seduta riprende, diamo la parola alla consigliera Franciosi, che ci illustrerà quanto avete deciso nei capigruppi. Allora, la decisione che abbiamo preso è quella di ritirare l'emendamento e di proporre un ordine del giorno, che però, siccome ha scritto a mano il consigliere Tremolada, non vorrei, come dire, la scrittura era un po'... Ho demandato al consigliere Tremolada la lettura dell'ordine del giorno. Quindi invito il consigliere Tremolada ad illustrarci un attimino l'ordine del giorno. Prego. Ho scritto male, è stata molto gentile. Allora, l'ordine del giorno affirma Serena Franciosi ed altri che il consiglio comunale di Sesto San Giovanni decide che il testo del codice etico venga reso visibile sul portale comunale affiancato allo statuto e venga consegnato ad ogni consigliere comunale, insieme allo statuto stesso, all'atto dell'insediamento. Grazie, penso che non ci sia una dichiarazione. Andiamo subito in votazione. Mettiamo in votazione il implementamento appena illustrato. Diamo tempo di raggiungere le postazioni. Inizio votazione. Fine votazione. Consigliere presenta al voto 23. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Favoreo di 23. Il consiglio approva l'unanimità. Grazie. 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 iniziale di queste tre sere presentata dalla collega Teormino, perché quando si parlava di difensore civico all'interno del comitato, di renderlo nella commissione comunale per la verifica di ammissibilità ai referendum, la collega aveva riportato una richiesta di parere presentata dal comune di Sesto San Giovanni per vedere se il difensore civico poteva rivestire questo ruolo di componente nella commissione comunale per la verifica di ammissibilità al referendum e aveva detto che questo ruolo non lo poteva svolgere, fermandosi però solo alla prima parte del parere, perché nella seconda parte il dirigente dell'ufficio, la dottoressa Bertolani diceva che il difensore regionale può dare la sua disponibilità, non come membro componente di commissione, ma nella veste di difensore territoriale competente, quindi ci tenevo a precisare che il difensore regionale può dare la sua disponibilità e quindi questa è una cosa importante. Allora presentiamo quest'ordine del giorno che dice che nel 2010, il 26 marzo con la legge numero 42, la conversione in legge con modifiche del decreto legge 25 gennaio 2010 numero 2 ha soppresso la figura del difensore civico comunale, di cui l'articolo 11 del testo unico 267 del 2000. La stessa legge ha stabilito che le funzioni dei difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori civici della provincia, cosiddetti territoriali, mediante apposita convenzione tra la provincia e il comune interessato ad usufruire il servizio. Visto che il Consiglio comunale di Milano con le delibere del 2012 numero 32 ha nominato il difensore civico territoriale e che la nomina è stata perfezionata con decreto del Presidente della provincia di Milano il 24 aprile 2012, visto che il 26 settembre 2012 con decisioni unanime il Consiglio provinciale ha approvato lo schema di convenzionamento, parliamo quindi di uno schema di convenzionamento. Visto che i 134 comuni che compongono la città metropolitana di Milano possono continuare a garantire la difesa civica ai loro cittadini convenzionandosi all'ente città metropolitana di Milano e il suo difensore civico territoriale, visto che il primo comune che ha attivato la convenzione con delibera del 14 gennaio 2013 è Cinisello Barsamo, il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per la stipula di una convenzione permanente con l'ente città metropolitana di Milano per attivare il servizio di difesa civica territoriale. Sono andata a vedere anche i costi di questa convenzione, quindi c'è già uno schema, non dobbiamo inventarci nulla. I costi, la convenzione può essere temporanea o permanente, temporanea vuol dire a richiesta e viene 200 euro a volta, permanente per tutto l'anno costa 5.000 euro, quindi anche il costo è molto contenuto, però diamo in questo modo un servizio ai cittadini che diventa una garanzia, una forma di tutela in più. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante, su questo ordine del giorno è possibile intervenire un oratore per gruppo per 5 minuti. Ha chiesto la parola il gruppo Partito Democratico alla consigliera Teormino. Prego. Sì, mi tocca l'obbligo però di ribadire quanto affermato nella relazione iniziale, in quanto è stato interpellato direttamente il difensore civico regionale sul fatto di essere disponibile o meno a far parte di questa commissione, io leggo quello che ci ha scritto esattamente sulla lettera che ci è stata inviata come risposta e dice, quest'ultimo interpellato ha risposto con la seguente frase che mi sembra molto chiara, tra le funzioni attribuite dalla legge al difensore regionale, esplicitate nella legge regionale numero 6 del 2010, l'articolo 8, non rientra quella di rivestire il ruolo di componente di commissione comunale per la verifica di ammissibilità dei referendum. Quindi mi sembra che è più chiaro di così, non capisco quale sia l'intervento e il senso. Grazie. Prego, consiglieri di teferrante. Anch'io ho letto la lettera, ce ne sono due di lettere, questa è quella che ha letto all'inizio, è la prima, la seconda è una richiesta di parere datata 30 giugno 2015 e dice, quello che dice lei, tra le funzioni attribuite dalla legge del difensore regionale non rientra quella, l'ho letto prima, lo ripeto, di rivestire il ruolo di componente di commissione comunale per la verifica di ammissibilità del referendum. Questo lo dice anche nella seconda lettera, perché nella prima era un po' ambigua e quindi è stata richiesta un'ulteriore spiegazione. Poi dice, ed è questa la parte mancante della sua relazione, il difensore regionale infatti, la sua individuazione nello statuto, quale componente non ha fondamento giuridico. Cioè quindi il ruolo del difensore civico come componente non ha ruolo giuridico. Il difensore regionale infatti può dare la disponibilità, quindi un fatto è metterlo come membro di una commissione, un fatto è dire può dare la disponibilità nella veste di difensore territorialmente competente. Ecco qui il discorso di fare una convenzione che può permettere tutta una serie di utilizzi. Quindi il difensore regionale può dare la sua disponibilità nella veste di difensore territorialmente competente a svolgere il ruolo richiesto. Il ruolo richiesto è quello di dare un giudizio. Quindi noi in questa ordine del giorno non andiamo a dire quale ruolo deve avere il difensore civico, andiamo a dire convenzioniamoci. Perché c'è la possibilità di convenzionarsi. Grazie. Grazie. La consigliera Titta Ferrante. Consigliere Torrago. Sostanzialmente a questo ordine del giorno siamo, diciamo così, nella sostanza tutti favorevoli perché un giorno che va a, in qualche modo, a creare una figura per la difesa del cittadino ben venga. Il problema è che questa sera, sia ieri che l'altro ieri, si è cercato nei vari emendamenti di snellire la macchina e eliminare dei costi. Poi questa sera c'è qui un ordine del giorno dove va ad inserire un costo per la collettività. Quindi ribadisco per noi non c'è nessun problema. L'importante è che si sappia tutti che questo comunque è un costo che, oddio, se lo vogliamo lo possiamo anche sostenere. Però, ecco, entriamo verso quella direzione lì. Comunque, sul principio d'accordo, voglio dire, come si fa a non essere d'accordo su un difensore del cittadino. Vediamo se troviamo qualche formula comune in modo tale da trovare una istituzione diversa. Grazie. Il gruppo PD ha esaurito tutti gli interventi, quindi se non ci sono altri interventi... Scusi, Presidente, abbiamo bisogno di due minuti. Non so se possiamo interrompere un'altra volta, se ci lascia un'interruzione... Ok. Grazie. 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 La parola permanente, cioè ad attivare, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per stipulare una convenzione con l'ente Città Metropolitana di Milano, mentre io avevo proposto di farla permanente in modo tale che fosse una figura utilizzabile per tutta una serie di cose. Invece farla nell'altra ipotesi vuol dire chiamarla in funzione di un problema specifico. Non c'è problema, togliamo permanente con la speranza che poi ci possa essere una figura presente qua in comune, visto che il nostro non è un comune di 1.500 anime o di 40.000 anime, ma la casistica sicuramente è elevata e quindi avere una figura presente in comune è utile. Però l'importante è attivarsi per fare questa convenzione e poi eventualmente vedremo nel prosieguo. Grazie. Quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentata da Sesto nel Cuore, modificato nella parola, eliminando la parola permanente. Quindi stipula la convenzione, una convenzione con lente della Città Metropolitana. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenta al voto 24, contrario nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24. Il consiglio favorevole. Quindi prima della dichiarazione di voto è consentita la parola sia ai relatori che al sindaco. I relatori non chiedono la parola, quindi la parola al sindaco. Prego. Grazie, Presidente. Brevemente, con il voto di questa sera si conclude una discussione che è durata tre giorni in Consiglio Comunale, ma che è iniziata, come veniva ricordato, nelle serate precedenti dai consiglieri che sono intervenuti, che è durata parecchi mesi. E' stato un lungo e ricco periodo di confronto, appunto iniziato in Commissione Consigliare, nella Commissione Consigliare competente, su uno strumento che è importante per il funzionamento dell'organo locale, per il funzionamento del Comune, per la partecipazione dei cittadini e per le forme di collaborazione tra il Comune e gli enti. In questo Statuto vengono recepiti, come è stato detto da più parte, una serie di modifiche che in questi anni sono state introdotte dal legislatore nazionale che ci vedevano in ritardo. Però vorrei evidenziare, pur nella differenza delle posizioni, che viene molto migliorata la parte che riguarda la partecipazione dei cittadini. Sono stati introdotti nuovi strumenti, referendo un propositivo dell'istruttoria partecipata, la riduzione del numero di firme, questa sera si è votato per il question time. Certo, sono stati introdotti degli strumenti, ma in un'ottica di riconoscimento della democrazia rappresentativa, che è la forma di governo nella quale personalmente mi riconosco, pur evidenziandoli e conoscendoli quelli che sono i limiti. Da qui quindi la scelta di individuare strumenti partecipativi allargati che possano arricchire la vicinanza con i nostri cittadini. La democrazia rappresentativa credo sia quella che dia un senso al nostro ruolo all'essere qui questa sera, ad essere qui in questi anni, a metterci a disposizione della città. È l'esercizio della nostra responsabilità, è l'esercizio della nostra responsabilità e del fatto che dobbiamo rispondere poi ai cittadini di quello che facciamo e su questo veniamo poi valutati. Ringrazio del dibattito, del ricco dibattito. Io volutamente ci tengo a dirlo, non per una questione di non rispetto nei confronti dei consiglieri comunali che hanno partecipato in questi lunghi mesi al dibattito, ma anzi, al contrario, per rispetto dell'autonomia dei consiglieri comunali, volutamente non ho partecipato alle commissioni che ho comunque seguito. Mi sembrava giusto che ci fosse una libertà di confronto, auspicavo e auspico ovviamente, che ci sia una volontà di arrivare a una votazione che veda tutti, possibilmente tutti, non sarà possibile, però, che veda tutti ad approvare quello che è lo statuto della città di Sesto San Giovanni e non lo statuto di una parte del Consiglio Comunale. Voglio ringraziare, quindi ci tengo, è stato un atto di rispetto quello che io ho creduto giusto fare. Ringrazio del lavoro tutti i consiglieri comunali e ringrazio anche dell'attenzione con cui è stato seguito il dibattito questa sera da parte del pubblico. Raramente abbiamo tanto pubblico ad ascoltare i consigli comunali. Ringrazio chi ha lavorato in modo più puntuale, più attento, quindi i consiglieri comunali della Commissione competente e permettetemi un ringraziamento personale ai presidenti della Commissione, prima il consigliere Babassori, la consigliera Antonioli e anche il vicepresidente Lamiranda, che l'ha sostituito un paio di volte, credo una o due volte, non mi ricordo. E un ultimo ringraziamento ovviamente va alla Segreteria Generale, perché appunto modificare quello che è uno degli strumenti più importanti che regola la democrazia della nostra città è stato un lavoro anche molto impegnativo da questo punto di vista, così come anche seguire il dibattito e l'evoluzione poi del dibattito che è intercorso in queste tre serate, che comunque è andato a intervenire ancora nuovamente, e dico giustamente, nel testo dello Statuto. Grazie. Grazie al Sindaco. Adesso procediamo con la fase della dichiarazione di voto. iniziando con il gruppo giovani sestese, la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Volevo iniziare la nostra dichiarazione di voto sottolineando due cose importanti. Le decisioni che sono state prese all'interno di questo Statuto da parte dei giovani sestesi sono state delle decisioni valutate fino in fondo e frutto di un lavoro di squadra che, oltre ai lavori di commissione che abbiamo fatto, hanno occupato parecchio tempo. Quando abbiamo iniziato questa discussione, solitamente sono e siamo persone che amano abbastanza il confronto, ci è stato detto che comunque una lista civica dovrebbe essere aperta, il più democratica possibile, il più partecipativa possibile. All'interno del nostro gruppo, ragionando poi sulle cose che dovevamo andare a cambiare all'interno dello Statuto, ha preso sempre più forma il fatto di una forte credenza per quello che riguarda la democrazia rappresentativa. Nei vari interventi che sono stati fatti è stato più volte evidenziato che la mancanza di partecipazione da parte della gente alla vita politica e come fase successiva al voto è data dal fatto che gli viene negata la partecipazione. Noi crediamo che con le modifiche che sono state fatte stasera all'interno dello Statuto sicuramente si sia aperta una strada che ci sembra, anche se in alcuni punti eravamo un pochino più dissenzienti, per esempio ci sarebbe piaciuto di più, come segnalato più volte anche in Commissione, il principio dei 18 anni, però sulla proposta poi fatta dal Sindaco ci siamo sentiti di convergere e di accettare i 16 anni anche su alcune proposte. ma tornando a quello che stavo dicendo prima, io penso che la partecipazione passi sicuramente dagli strumenti che noi stasera andiamo a modificare e a rendere un pochino più usufruibili, ma passa sicuramente anche dal nostro comportamento, da quello che noi saremo in grado di fare, non solo qua dentro ma anche nelle strade e in città, dalla capacità di ascolto che avremo verso le persone che comunque ci contatteranno e ci chiederanno comunque di poter partecipare, non credo che l'unico metodo sia quello di portare a referendum qualsiasi cosa, anzi credo che nel momento in cui i referendum dovessero diventare un numero rilevante vuol dire che noi non siamo assolutamente capaci di comunicare e a quel punto l'unico strumento che rimane al popolo è quello di metterci in condizione di poter imporre il loro pensiero e di poterci dire chiaramente quello in cui credono e quello che loro vogliono. Io questa onestamente la ritengo una grossa sconfitta che tutto il mondo politico comunque in qualche modo subirebbe, dovremmo farci un grosso esame di coscienza e dire che forse dobbiamo andare a fare altro. Però vi chiedo una cosa, oltre a tutti i ringraziamenti che ha fatto il sindaco, a me solitamente non piace molto ringraziare, ma stasera penso che abbia perfettamente ragione, mi sento di ringraziare anche tutti quei cittadini che insieme a noi hanno partecipato alle commissioni, i cittadini che ci hanno mandato le loro proposte e anche la vehemenza con cui hanno difeso molte loro posizioni e su questo credo che ci spetti fare una riflessione. Dall'inizio delle commissioni che noi abbiamo fatto, quello che ci hanno sempre in qualche modo rimproverato è che è vero che nei regolamenti della partecipazione determinate cose erano già comprese, ma comunque non avevano mai trovato il modo di poterle mettere, di poterle attuare e non trovavano il modo per poter avere accesso a quella partecipazione che noi dicevamo che in qualche modo all'interno dei nostri regolamenti già c'era. Quindi chiedo che dopo il lavoro grande che abbiamo fatto, dopo le discussioni che ci hanno tenuti uniti o separati comunque in questi mesi, l'amministrazione si impegni seriamente a rendere i regolamenti fruibili entro i sei mesi di cui faceva menzione all'inizio dei tre giorni di consiglio la consigliera Teormino, perché altrimenti tutto il lavoro che noi abbiamo fatto verrà rimandato e rimandato ancora per le persone che come noi non vivono una realtà diretta con l'istituzione, ma per poter avere un confronto con le istituzioni devono usufruire di questi strumenti della partecipazione. Per concludere, anche se l'ho già detto molte volte in commissione, l'ho ripetuto in queste serate, l'unico, non è un neo perché poi è stata una scelta che la maggioranza ha fatto e in prima persona il sindaco ha fatto, l'unica cosa che noi ci sentiamo nuovamente di sottolineare è che c'è tutta una parte, io capisco che questa città da 70 anni è governata sempre dalla stessa amministrazione e di conseguenza ha fatto la scelta politica di mettere tutto quello che riguarda la partecipazione, il referendum e quant'altro nello statuto. Io ribadisco quello che noi abbiamo sempre detto in commissione, questa scelta è abbastanza focalizzata sul presente e su quello che è stato fino ad oggi Sesto San Giovanni, metterà in difficoltà eventualmente chi verrà dopo di noi perché se questa città non dovesse più essere governata dalla stessa amministrazione, chi verrà dopo sarà costretto a fare lo stesso lavoro che noi abbiamo fatto in questo momento. Sarebbe stato un pochino, uso un termine forse che non è adatto, però sarebbe stato un pochino più umile da parte nostra fare tutte le modifiche che andavano fatte, metterle nel regolamento e pensare che magari noi non saremo eterni e dare la possibilità a chi verrà di poter gestire tutta la parte che poi è stata quella centrale dell'articolo 20 in maniera più snella. Per il resto il nostro sarà un voto favorevole, condividiamo il percorso che è stato fatto, condividiamo la salvaguardia della democrazia rappresentativa e l'apertura verso la democrazia partecipativa. Vi prego, facciamo in modo che le persone che hanno lavorato con noi e non fanno parte del Consiglio Comunale possano avere al più presto, attraverso i regolamenti, la possibilità di partecipare. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Feltrini. Prego. Grazie, grazie Presidente. Beh, io mi sento in primo luogo doppiamente in dovere di ringraziare, come è stato fatto nei precedenti interventi, le cittadine e i cittadini che hanno dato il loro contributo, nonché tutti coloro che hanno partecipato al lavoro appunto della Commissione, essendo io tra le cose consigliere appena nominato, si è trovato a scontrarsi con una materia così ostica come quella dello Statuto Comunale. Così come voglio ringraziare davvero la generosa partecipazione delle consiglieri e i consiglieri nel dibattito di questi tre giorni. Un dibattito che ha un valore, all'ilà poi delle divisioni che ci hanno visto votare anche in modo divergente in alcune circostanze, ha un valore rilevante, visto che appunto, se non ricordo male, già l'articolo 114 della Costituzione, poi la legge costituzionale 3-2001 riconosce appunto i comuni quali enti dotati di Statuto. Bene, da qui si deduce il valore della discussione e il passaggio consigliare che abbiamo attuato in queste tre sere. E si comprende appunto che davvero la prima forma di autonomia garantita agli enti locali è proprio quella statutaria. E la legge, mi pare, 131 del 2003 colloca appunto la potestà statutaria nell'ambito del più ampio concetto di potestà normativa, intesa appunto come il potere di rettare norme capaci di innovare l'ordinamento giuridico e quindi di, aperte virgolette, imporsi ai cittadini della comunità stessa. Ora, attraverso questa manifestazione di autonomia che viene riconosciuta all'ente locale, bene, l'ente locale dà voce in teoria ed è chiamato a dar voce alla specificità culturale, sociale ed economica di quella comunità. L'articolo 4 poi di quella stessa legge 131 delinea, visto che ne abbiamo discusso ampiamente in queste serate, quali sono i contenuti, se non ricordo male, degli statuti, arrivando a distinguere appunto contenuti obbligatori e contenuti facoltativi per lo statuto dell'ente locale, in questo caso per lo statuto comunale. Allora, come forza politica, per una forza politica che rappresento, sappiamo sicuramente che quello che andiamo a votare ora non sarà sicuramente il migliore degli statuti possibili, non ho questa illusione leibniziana. So che ci sono alcune cose che non sono state accolte, che per noi sarebbero state significative. Mi sia consentito solo dire, appunto, citare un passaggio, appunto, quello relativo al bilancio partecipativo che, mi permetto di dire, è rimasta nello statuto una dichiarazione di principio. Avrei preferito, avremmo preferito venisse declinato in altro modo. Però, appunto, giungendo al termine questo breve intervento, valutiamo il lavoro positivo svolto e quindi, visto che molte delle nostre richieste, in alcuni casi addirittura perplessità nell'intervento iniziale avevano definiti, appunto, anche timori personali. In realtà, molte delle nostre richieste sono state accolte, certo non tutte, le ripeto, alcuni piccoli vulnus ci sono ancora. Però, come forza politica, devo, appunto, testimoniare che il nostro voto sarà positivo al lavoro svolto in queste tre sere e, appunto, in fase di commissione. Grazie. Grazie al consigliere Feltrin. Gruppo Sinistro Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Buona serata a tutti. Innanzitutto, facciamo volentieri questa sera dei ringraziamenti che non sono di logica o, come dire, da paraculaggine, passatemi il termine, ma sono umani. Sono dei ringraziamenti che facciamo ai presidenti di commissione, Eva Vassori e Antonioli, che secondo me sono sempre state persone corrette e preparate e che hanno condiviso con tutti l'andamento dei lavori. Ringraziamo i cittadini che nelle commissioni mi hanno suggerito e corretto e ci hanno corretto in questo percorso, perché sono state fonte utile, ecco, perché forse la partecipazione è un esempio, lo era quotidianamente, andava accolta maggiormente. Ringraziamo anche il segretario generale che ci ha guidati e seguiti in questo non facile cammino. Grazie veramente. Secondo me sono stati tre giorni in cui ogni gruppo consigliare, parlando dello Statuto, ha espresso una propria idea di città, a volte diversa, ma una propria idea di città ed è, secondo me, stato bello. Un ringraziamento anche ai gruppi consigliari che con noi e noi con loro hanno, abbiamo, condiviso tanti emendamenti, condivisione devuta dal fatto che su queste tematiche, forse anche su altre, chissà, vi sono dei punti d'incontro. La stensione elettorale che ha segnato su apice le regionali dell'Emilia Romagna con il 63% non può essere automaticamente identificato come un disimpegno verso il voto, che non si traduce automaticamente in disimpegno verso altre forme di partecipazione. Che la democrazia sia in difficoltà è fuori di dubbio, lo si vede dalle persone che partecipano e dalle persone che votano. Ma forse l'indifferenza non è la causa, secondo noi, ma bensì l'effetto delle trasformazioni di cui la democrazia è sottoposta quotidianamente. Ma a questo punto quale influenza è destinata a esercitare la partecipazione? Il nostro filo conduttore in queste tre serate e tutti gli emendamenti presentati da noi andavano nella direzione dove è la partecipazione a sviluppare il gusto di riapproparsi della politica. E perché questo possa avvenire occorre, peraltro, che chi prende parte a tali processi sia persuaso che non si tratti di operazioni simboliche o di facciata, ma realmente capaci di influenzare le decisioni. Troppo spesso in Italia gli amministratori intendono la partecipazione come informazione e consultazione, assai più di rado come coinvolgimento. Deve essere sottolineato che, l'ho detto e lo ribadisco, non si pensa neanche un modo con la democrazia partecipativa di sostituire la democrazia rappresentativa. Pensiamo semplicemente che la democrazia diretta sia un dispensabile integrazione per migliorare il sistema democratico e far sì che in un momento storico come questo, dove vi è sempre una più alta disaffezione verso i partiti, la democrazia diretta possa rappresentare quello strumento per avvicinare tantissimi cittadini che fanno politica, ma non credono più in una forma partitica della politica. Sotto questo profilo, la democrazia diretta contribuisce, secondo noi, alla costruzione di capitale sociale, di senso di appartenenza e comunità, di rispetto, di relazioni e fiducia tra cittadini e tra questi il sistema politico, contrastando i processi di disaffezione evidenziati prima. I benefici possono comunque e dunque andare ben oltre le specifiche questioni attualmente in gioco. I migliori sistemi democratici dotati di diritti referendari da oltre un secolo funzionano bene senza quorum, senza aver provocato un'inflazione di votazioni e senza richiesta di introdurre un quorum. Diceva Don Milani, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne insieme alla politica, sortirne da soli è l'avarizia. Quindi quale scuola di democrazia è più efficace della partecipazione a un'opera comune alla quale tutti siamo chiamati a cooperare? Noi forse questa sera abbiamo perso un'occasione per inserire all'interno dello statuto, com'è nel programma del sindaco, da noi votato e da tanti votati a questa aula consigliare, il bilancio sociale, il bilancio ambientale e il bilancio di genere. La consulta dei miglioranti e la consulta degli anziani non sono dentro questo statuto e sono nel programma del sindaco. Noi voteremo contro questo statuto e spiego perché voteremo contro. Degli amenti che abbiamo fatto, il fatto di avere il PGT con la materia non trattato da un quesito referendario non è stato accettato. Il bilancio partecipativo non inserito nonostante una mozione, fantastico. Il PGT partecipativo non è stato preso in considerazione. Mille cittadini non è stato preso in considerazione. A questo punto dico ok, d'accordo, va benissimo però. È come se a questo punto, è vero, abbiamo uno statuto con il referendum, è come se dovessi dire a mio figlio, da domani puoi rientrare a mezzanotte anziché alle 11 di sera, ma non potrai allontanarti dal pianerottolo. Mentre prima poteva allontanarsi per alcuni chilometri. Noi lavoreremo per questo. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Per il gruppo misto da consigliera Landucci. Prego. Io credo che qui si debba parlare di politica evidentemente, perché lo statuto è prima di tutto politico. È evidente che la decisione del consigliere Nossa toglie alla maggioranza, la maggioranza qualificata e quindi, a prescindere da tutto, il mio voto non può che essere contrario. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle e la consigliera Franciosi. Grazie Presidente. La conferma dei percorsi di partecipazione e di loro miglioramento rappresentano un carattere fondante di chi ha assunto la responsabilità di guidare la città. Partecipazione per comprendere bisogni e desideri, partecipazione per coinvolgere e suscitare responsabilità civica, sia nell'indispensabile scelta delle priorità di intervento, sia per suscitare impegno e l'azione diretta dei cittadini. La città, del resto, non appartiene a chi ha il dovere di governarla, ma a chi la vive, prendendosene a cuore lo sviluppo e la crescita. Lo statuto e i regolamenti, e particolarmente quello sulla partecipazione, verranno rivisti adeguati nell'ottica di costruire percorsi partecipati, trasparenti e motivati. Quando abbiamo votato a favore le sue linee programmatiche, sindaco Chittò, lo abbiamo fatto anche alla luce di quanto appena letto, perché questo scritto è all'interno delle sue linee programmatiche, interpretando queste parole come un impegno a migliorare, o a quantomeno a introdurre il discorso relativo alla democrazia diretta. La modifica allo statuto, insomma tutto il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, dal nostro punto di vista aveva come obiettivo quello di migliorare la partecipazione da parte dei cittadini all'attività dell'amministrazione. Di fatto le modifiche allo statuto sono partite perché le diverse associazioni dei cittadini facevano notare come il famoso articolo 20 non fosse rispondente alle richieste di legge ed era oltremodo datato e andava riaggiornato. Doveva di fatto portare un po' di democrazia diretta nel tempio di quella che è la democrazia rappresentativa. Dal nostro punto di vista questo non è minimamente avvenuto. Noi abbiamo presentato tanti emendamenti, li ho contati dovrebbero essere qualcosa come 26. Alcuni li ritengo più importanti di altri e sono l'introduzione del referendum confermativo che ci avete bocciato. La percentuale per la raccolta delle firme. Noi avevamo presentato mille firme che di fatto sono più o meno l'1,5% ed è stato bocciato. La materia referendabile. Io sfido chi è chiunque in base al comma 4 dell'articolo 20 presentare un qualsiasi quesito referendario o una materia, cioè non è possibile in questo momento presentare un referendum in questa città. Sfido chiunque a presentare un referendum abrogativo di uno dei qualunque regolamenti. nessuno presenterà mai un referendum abrogativo per il regolamento del verde. Quindi anche in quel caso l'emendamento ce l'avete bocciato. Quorum zero, che è un nostro cavallo di battaglia, bocciato. L'esito vincolante è passato, ma devo dire per il rotto della cuffia. Bilancio partecipativo? No, perché ci è stato detto che le regole non erano chiare, ma le regole non vanno riportate nello statuto. Torno a ripetere, le regole vanno messe nel regolamento e nel nostro emendamento era ben scritto. PGT partecipativo bocciato. Question time? Effettivamente questo è l'unico che ci avete approvato. L'istituzione e l'azienda speciale con la nostra visione di riduzione dei costi per l'ente pubblico, entrambi bocciati. Il codice etico degli amministratori? Sì, l'avete passato, è stata una cosa che abbiamo apprezzato. Sui tempi delle interrogazioni va bene, beh di fatto è la legge che ve lo impone. Per le emozioni no, e questo noi lo vediamo come una mancanza pesante nei confronti dei consiglieri e della loro possibilità di esprimere la propria visione. Notate che molto spesso le emozioni inerenti all'attività o alla vita dei cittadini vengono anche presentate su sollecitazione da parte di esterni, quindi di cittadini, quindi della democrazia diretta. Di conseguenza, per coerenza con il nostro programma politico e per coerenza nei confronti dei nostri elettori, noi voteremo contro il test uscito dalla discussione di questi giorni. Grazie. Grazie, la consigliera Franciosi, il gruppo Popolo della Libertà, il consigliero Lamirando, prego. Grazie Presidente. È uno di quei momenti dove un politico è chiamato a prendere delle decisioni, o meglio un politico, parola grosse, chi ha deciso di fare politica nella città deve prendere le decisioni, sia esso che sia un militante di partito che sia una scelta o abbia fatto antecedentemente una scelta di cittadino che si mette in gioco e in discussione nella politica. Però quando si costruisce la casa comune, come in altre cose ho già detto spesso, la si costruisce veramente comune se si vuole poi raggiungere un certo obiettivo. E porto un esempio che è successo, poi qualcuno mi ha chiesto scusa, ma la realtà dei fatti è così. C'è stata occasionalmente una situazione dove ho presieduto la commissione e dove si era raggiunta una maggioranza qualificata, trasversale, su un certo percentuale di cuore. Poi improvvisamente in aula è cambiata per equilibri di maggioranza. Allora o lo statuto è di tutti o lo statuto è della maggioranza. E allora se è della maggioranza è un problema della maggioranza, provassero. Nessuno dell'opposizione deve farvi da stampella. Il che non vuol dire mancare di rispetto, non rispettare i cittadini e non consentirgli di partecipare alla situazione del rifendario. Perché tra 30 giorni questo statuto passa comunque, lo sappiamo benissimo, ma passa come statuto voluto solamente dal PD, non condiviso. Perché non vi costava nulla, perché era la casa comune, a secondare un elemento, un principio fondante di ciascuna rappresentanza delle minoranze. Si chiedeva a 5 Stelle di dire, dei 4 o 5 punti che tu hai, ti do diritto a metterne uno fondamentale per te. E poi lo stesso si chiedeva a Caponi, si chiedeva agli altri, si chiedeva anche a noi. Addirittura una cosa che tra parentesi vedeva anche il consenso di molti consiglieri del PD, che era quello di tenere la maggioranza dell'età per consentire la partecipazione. Quindi un'inezia, un'inezia. E tuttavia si è voluto per seguire un impianto dato inizialmente con vircole, punti e virgola, cercando di mettere dentro qualcosina che non mutasse troppo l'impianto inizialmente. La casa comune credo si costruisca appunto un po' diversamente. Poi, se noi ci abbiamo lavorato tanto in museo, c'è stata tanta discussione. Poi, quel poco che si era conseguito lo si è cambiato senza neanche avvisare per dire, allora, è inutile che facciamo la finta partecipazione. Portate un progetto, lo approvate. Nessuno dice che non è lo statuto cui dopo noi non utilizzeremo e i cittadini non utilizzeranno. Ma nessuno potrà dire che è stato costruito con un percorso comune. Proprio perché i lamenteri di 5 stelle sono quelli che possono aver fatto, le lamentere che posso fare io e che magari faranno qualcun altro. È evidente che in questo momento, come ha fatto il consigliere nostra, lamentandosi, pur essendo parte, diciamo, formale della maggioranza. Ma siccome legittimamente, rivene con la proposizione e dice, qui non è una delibera dove cade o non cade la maggioranza. Qui è la costruzione di regole comuni condivise, dove c'è il compromesso, dove io, che appartengo a una certa area culturale, mi faccio andare a fare bene alcune cose pur di avere la costruzione della casa comune. La Costituzione è stata costruita esattamente in questo modo. Se uno pensa di essere solo perché ho vinto padre, padrone, poi dopo deve pagare il prezzo politico di fronte a certe situazioni. E io credo che se qui non interverrà un altro voto di supporto, se non mi bocciano in matematica, stasera tecnicamente questo statuto non viene approvato, perché non ha la maggioranza qualificata. Verrà approvato tra 30 giorni con i soli voti del Partito Democratico. Grazie. Ovviamente presumo che si sia capito che il voto è contrario. Sì, allora, oltre a Partito Democratico ci sono altre partite liste in questo Consiglio e appunto passiamo al gruppo verso sesto Democratici del Campionale. Mi scuso, non volevo, non volevo, non volevo assolutamente, passiamo al gruppo di gruppo verso sesto Democratici per il cambiamento. Chi fa la dichiarazione è il Consigliere Bernardi, prego. Grazie Presidente. Io penso che il lavoro che sia stato fatto in questi tre giorni sia un lavoro prezioso, un lavoro utile e un lavoro collettivo, Consigliere Lamiranda, un lavoro collettivo fatto da noi, fatto da noi nelle commissioni, i consiglieri di maggioranza, i consiglieri di opposizione, i presidenti, fatto dal segretario generale e fatto dai cittadini, dalle associazioni che hanno partecipato alla commissione e che ringrazio di essere presenti fino a quest'ora in aula. Ed è un lavoro prezioso e vorrei usare questo termine perché è importante per questo statuto un lavoro equilibrato. Un lavoro equilibrato perché è riuscito, pur con tanti difetti e probabilmente ancora mancanze, però a rendere una questione che è stata dibattuta varie volte in questi tre giorni, quella tra democrazia partecipata e democrazia, tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, ha trovato un punto di equilibrio molto forte perché in quest'aula io ho sentito troppe molte volte usare la democrazia diretta, usarla con gli emendamenti, con alcune dichiarazioni, usarla contro gli obiettivi che vuole poi raggiungere. Io penso che la democrazia rappresentativa abbia tantissimi limiti, lo vediamo oggi in quest'aula, ma lo vediamo nelle aule parlamentari, lo vediamo nella disaffezione alla politica. Però la democrazia diretta è, l'ho già detto anche prima, ancora più preziosa forse e va maneggiata con cura, non perché sia uno spauracchio, ma perché è una risorsa e se di una risorsa se ne fa una bandiera ideologica, se di una risorsa se ne fa una marea di emendamenti molto contraddittori, non si fa un buon servizio prima di tutto agli obiettivi di democrazia diretta che si vuole raggiungere. Io penso che con questo statuto, ripeto, che ha tante mancanze, ma come tutte le cose è perfettibile, abbia raggiunto però un ottimo equilibrio. Il nostro voto sarà favorevole e sarà favorevole proprio per questo. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Passiamo al gruppo Sesto nel Cuore. Sì, Presidente, visto il prezioso copioso lavoro fatto dalla collega, mi sento di lasciare a lei il compito di fare la dichiarazione di voto. Prego, consigliere d'interferente. Allora, devo dire che questo lungo lavoro che abbiamo fatto insieme per me è stato molto a livello personale stato costruttivo, non avevo mai toccato uno statuto comunale e quindi ho imparato tante cose. Quindi grazie al dibattito che abbiamo fatto tutti e grazie soprattutto, lo ripeto, l'avevo già detto nel primo intervento, ai comitati che hanno portato, hanno spinto l'amministrazione a dare una risposta alle loro proposte. In questo percorso però io ho capito una cosa, si è parlato tanto di democrazia e di partecipazione e confesso che però sono delusa. Sono delusa perché il malessere che noi leggiamo nei nostri cittadini e quel 39,7% di partecipazione alle elezioni la dice lunga, è un malessere che però non leggiamo solo nel non voto, ma leggiamo anche in quei cittadini che partecipano alle consulte, la consulta dello sport, lo leggiamo in quei cittadini che partecipano ai tavoli di partecipazione, ai tavoli di piano. Lo vediamo in tante forme perché si parla, si parla tanto di partecipazione di democrazia, però poi non abbiamo quei risultati, il cittadino non vede quei risultati concreti, voluti rispetto a tutte le energie e gli sforzi che vengono spese. Mi viene in mente di citare Robert Putman che elaborò il concetto di capitale sociale e diceva, cito quello che diceva, la caratteristica principale di una democrazia è l'interrotta disponibilità del governo a recepire le istanze dei cittadini. Ricordo noi siamo partiti da dei quesiti referendari, da dei quesiti. I cittadini devono avere la volontà e i modi per far conoscere i loro dei e i loro problemi. La volontà e i modi. Io dico la volontà purtroppo tanti cittadini si sono allontanati dalla politica, addirittura quando sentono la parola, le parole partecipazione e democrazie sono usate così spesso e così male da essere viste con sospesso. Quindi ai cittadini dobbiamo ridare la volontà di conoscere, di poter dire i loro problemi e le cose. E i modi. I modi abbiamo visto con tanti emendamenti, con tanti argomenti che purtroppo non, questi modi non, le nuove modalità non sono state accolte. Mi riferisco al referendum confermativo, mi riferisco alla riduzione del numero delle firme per le richieste per indire un referendum, mi riferisco alla rappresentanza dei promotori dei referendum, al rappresentante dei promotori del referendum presente nel comitato dei garanti, che anche qui è stato rifiutato, mi riferisco all'impegno a promuovere il bilancio partecipativo o al PGT partecipativo. E poi non ultimo un rammarico quando ho sentito il collega Torraco che diceva in un momento delicato si parlava di un difensore civico da averlo presente qui in comune tutto l'anno per un costo di 5.000 euro. Lui ha detto ma vogliamo diminuire i costi e voi invece li aumentate. A parte che la tutela dei cittadini dovrebbe essere al primo posto, ma se vi è stato chiesto di ridurre il consiglio di amministrazione e proporre un amministratore unico e l'avete mantenuto, quelli non sono costi. E secondo me sono anche più alti dei 5.000 euro l'anno. Quindi ecco, ci sono una serie di cose che ci hanno lasciato veramente amariggiati. Avevo fatto un appello a tutti i consiglieri perché in queste sere si riuscisse a dare ai cittadini quegli strumenti partecipativi e decisionali che potessero essere veramente fruibili ed essere efficaci. E invece secondo me abbiamo ancora deluso quelle persone, quei comitati referendari che fin dal novembre 2011 avevano presentato le richieste di adeguamento ed oggi, dopo quattro anni esatti, l'amministrazione comunale è ancora lasciata a bocca aperta, a bocca asciutta. Quindi il nostro voto è di astensione. Grazie alla consigliere Titta Ferrante. Gruppo Partito Democratico, consigliere Tremolata. Buonasera, vi risparmio i ringraziamenti così facciamo un po' più in fretta perché sono già stati fatti da tutti e quindi mi associo a quelli già fatti. Il percorso che ci ha portato qui questa sera, che è stato di queste tre sere e tutto il percorso precedente di Commissione è stato molto articolato e impegnativo per tutti e per questo tutti vanno ringraziati. Noi crediamo che questo percorso articolato, lungo e faticoso abbia portato un buon lavoro. Ci permettiamo di contestare il fatto che chi verrà dopo di noi dovrà mettere mano a questo statuto e quindi sia stato un po' un ostacolo quello di mettere tutte queste regole nello statuto. E noi abbiamo fatto tutto questo lavoro credendo di fare un servizio non solo a una parte ma a tutti la cittadinanza e quindi indipendentemente da quello che succederà domani. Io credo che la politica sia fatta di mediazioni. Il consigliere Damiranda citava la Costituzione come esempio di questo che io credo è un principio basilare, cioè il fatto di dover cercare di trovare nella convivenza civile un comune denominatore tra diverse posizioni su argomenti magari più particolari come su per esempio uno statuto. Quindi però non penso che si risolva questo trovare un comune denominatore delle basi comuni nelle quali tutti crediamo dando un contentino a ciascun gruppo consigliare su quello che lui ritiene il suo principale cavallo di battaglia perché in questo modo non avremmo fatto un buon servizio, non avremmo raggiunto una stesura dello statuto coerente e omogenea. Io ritengo invece che debba essere fatta appunto una ricerca che è molto più faticosa e molto più difficile però di una base che sia omogenea, che sia funzionale nella quale tutti crediamo e sulla quale costruire poi ciascuno secondo quello che pensa sia più opportuno. Il nostro gruppo consigliare penso che abbia fatto uno sforzo di elaborazione al suo interno e anche uno sforzo per venire incontro alle istanze di cittadini e di gruppi presenti in questo consiglio. Non consigliere la miranda solamente ai gruppi che compongono questa maggioranza ma anche a gruppi che non compongono questa maggioranza o da cittadini. Ma non si può non tenere in considerazione tutte le opinioni che cittadini anche di questa città che noi rappresentiamo possono portare. Vi spiego meglio. Il quorum per esempio, un cavallo di battaglia era per esempio il quorum zero, il fatto che alcuni gruppi di cittadini, alcuni gruppi consigliari presenti in questo consiglio ci abbiano spiegato perché secondo loro era importante. Noi abbiamo recepito questa istanza, non ci può però distrarre dal fatto che ci siano altri cittadini che la pensano diversamente. Noi abbiamo, capite queste istanze, elaborato una proposta che è stata portata con un ordine del giorno condiviso con i colleghi di Verso Sesto, di Federazione della Sinistra, per un abbassamento del quorum da quello che noi pensavamo in un primo tempo fosse la cosa più opportuna al 30% a un 20%. Secondo noi questo è stata una grossa apertura nei confronti di quello che erano le istanze portate. Anche l'altro emendamento nel quale abbiamo proposto una riduzione dal 3 al 2,5% per la raccolta di firme per proporre un referendum, pensiamo di averlo fatto in questa ottica. Ora, se invece dall'altra parte contiamo solamente tutti gli emendamenti che sono stati proposti e sono stati bocciati perché non sono stati accolti al 100% da questa parte, non andremo mai d'accordo, cioè non troveremo mai una base comune se io rimango sulla mia posizione e finché l'altro non arriva al 100% a quella che è la mia posizione, io sono comunque contrario. Nell'ottica, secondo me, della politica e del trovare una base comune e un comune sentire, bisogna che mettiamo in campo ciascuno una sua flessibilità e noi pensiamo di averla messa in campo soprattutto non tanto per gli emendamenti presentati da altri gruppi che noi abbiamo votato e appoggiato perché ci sono sembrati accettabili, ma quanto proprio per questa, soprattutto per questi due emendamenti presentati da noi per i quali ci intendevamo avvicinare e quindi venire a posizioni più di comune sentire. Penso e vedo che invece questo non è stato apprezzato e mi dispiace perché, come ripeto, l'arroccarsi sulla posizione, fare la conta di tutti gli emendamenti presentati e quelli che non sono stati approvati al 100% fare la somma e dire quindi non ci avete accontentato al 100% e siamo contrari, a questo punto non saremmo mai arrivati comunque a un accordo completo. Un'altra cosa da dire che non ricordo, quindi da questo punto di vista ci dispiace che sia andato in questo modo la dichiarazione di voto. Ah sì, volevo dire, per esempio, vengono citati, non so, che il bilancio partecipato, in un paio di occasioni è stato detto che il bilancio partecipato non è stato accettato. Beh, il bilancio partecipato è dentro nello statuto, dopodiché se non è dentro esattamente come l'altro l'ha pensato, eccetera, eccetera, ok, va bene, allora forse non ci stiamo intesi su fino a quanto potevamo arrivare, poi potremo andare avanti a discutere. Se l'amministratore unico non può avere un consiglio di amministrazione per legge, secondo noi è più opportuno una certa flessibilità, faccio solo due esempi a caso, e non è che vogliamo per forza fare il consiglio di amministrazione, ecco, evitiamo di dire sempre il contrario di quello che è stato detto. Beh, quindi, in conclusione, riteniamo comunque che la stesura sia una buona stesura e che sia un buon servizio alla collettività e per questo noi daremo il nostro voto favorevole. Grazie. Prima di andare in votazione, come ha ricordato sia la consigliere Landucci e il consigliere La Miranda, questa delibera necessita per l'approvazione una maggioranza qualificata, ovvero due terzi dei consiglieri assegnati. Quindi sottopongo a votazione la delibera di modifica dello Statuto Comunale, così come è stato in mandata. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenta il voto 25, contrari 6, astenuti 3, favorevoli 16. A questo punto va delibera e approvata senza la maggioranza qualificata, per cui si rimanda alla procedura come prevista dalla normativa vigente. Intanto ringrazio tutti. Prima di chiudere, vorrei dare la parola alla dottoressa. No, vado rapidissima, scusate, non lo faccio mai, però mi permetto il mio e il mio lavoro, per cui ringrazio chi mi ringrazia di volta in volta, però ci tengo un modo particolare in questa occasione in cui si tratta, si è trattato di un documento fondamentale, dell'atto normativo fondamentale dell'ente, ringraziare il personale che lavora quotidianamente con me e che segue le commissioni a livello amministrativo. Non è una banalità, ci tengo particolarmente a partire anche dal personale che si è occupato dell'aggiornamento statutario, prima che io arrivassi in questo ente, che è la dottoressa Berardi, la signora Dellotto che ha seguito anche stasera nell'attività e tutto il personale che subisce il mio stress, compresa la stesura delle tabelle in Excel, per favorire la lettura nel corso delle sedute, piuttosto che a supporto dell'attività della commissione con le tabelle che avete visto e il personale che è presente, la signora Giovanini, Ingrosso, Maravese e Borrelli che sono costantemente presenti e la responsabile del servizio, Patrizia Morandi. Grazie. Grazie a lei per il supporto che ci dà, grazie, buonasera e buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.